Mesi di attesa che si risolvono in pochi secondi. Tanto basta per iniettare il vaccino anti-Covid-19. A Lione, questa allergologa, è una degli operatori sanitari over 50 che hanno potuto essere vaccinati in uno dei quattro centri istituiti una settimana fa. Lo faccio per me, per i miei pazienti, per la mia famiglia e gli amici, ma naturalmente dopo dovrò continuare a indossare la maschera perché potrei essere ancora portatrice. L'auspicio è che i colleghi più giovani si uniscano presto a lei e 300 professionisti già vaccinati nella terza città più grande della Francia. Abbiamo ancora medici, infermieri che sono molto esposti al Covid-19 in terapia intensiva, hanno meno di 50 anni ma devono rimanere in salute. I professionisti della sanità over 50 avrebbero dovuto ricevere il vaccino alla fine di gennaio dopo i residenti e il personale delle case di riposo. Ma di fronte alle critiche sulla lentezza della campagna di vaccinazione, il governo francese ha deciso di accelerare. La Francia è però ancora in ritardo rispetto ai vicini europei e non. La vaccinazione è preceduta da una visita medica. Gli operatori sanitari ci chiamano per fare domande. Sono allergico a questi prodotti? È sicuro? Ho avuto il Covid-19 in questo periodo? Quando devo prendere il vaccino? Le dosi di vaccino anti-Covid vengono conservate nella farmacia dell'ospedale e consegnate per soddisfare le esigenze del giorno. Abbiamo molte persone che vengono a farsi vaccinare. Stiamo per finire le fiale, quindi chiamo la farmacia. In Francia la vaccinazione è stata aperta anche ai privati. Qui a Lione è stato creato un centro di vaccinazione specifico. Permette agli infermieri che lavorano a domicilio, ai farmacisti e ad altri operatori privati di farsi vaccinare. Anche questa farmacista a 66 anni è in prima linea dall'inizio della pandemia. Facendosi vaccinare spera di convincere i più riluttanti. Alcuni dicono che ci stanno manipolando, altri vanno oltre, sostenendo che tutto è falso. Io dico loro, andate avanti. Gli dico, andate quando potete. Ma una certa riluttanza è espressa anche da una minoranza di operatori sanitari scettici nei confronti di un vaccino sviluppato a tempo di record. Il dibattito sulla velocità di sviluppo del vaccino può chiudersi ora. Tutti gli studi sono stati fatti correttamente. 44 mila pazienti per lo studio Pfizer a BioNTech, 33 mila per Moderna. Ciò che è stato accelerato è stato solo il processo amministrativo e burocratico. Quindi penso che per il momento la situazione sia rassicurante. Ovviamente non sappiamo cosa succederà tra cinque anni alle persone vaccinate, ma è lo stesso per qualsiasi nuova medicina. Secondo l'Agenzia Nazionale del Farmaco, in Francia finora non sono stati registrati effetti negativi.